L'amministrazione, non tutta, il sindaco in particolare, era a conoscenza di questa operazione e avevo concordato con il questore su sua espressa richiesta di allentare la pressione della polizia locale sul Pionta per lasciare spazio all'attività investigativa che la polizia di Stato aveva in corso. E quindi la scarsa presenza della nostra polizia locale aveva una motivazione che non potevo rendere pubblica. Per questo oggi ringrazio il questore, ringrazio tutta la polizia di Stato e ringrazio i cittadini che hanno avuto pazienza di attendere che si risolvesse questo tema sul quale non potevamo mettere opzioni facendo lavorare i nostri in sovrapposizione con quanto stava già gestendo la polizia di Stato. Per questo ho dichiarato che i miei concittadini hanno avuto la maturità di non aver preso iniziative eccessivamente pesanti su una situazione che era pesante. Non lo è più da pochi giorni, il Pionta è stato ripulito, ora sta a noi tutti, anche e soprattutto alla polizia locale mantenere questa condizione di assenza di traffici illeciti in quel luogo. È una vittoria di tutta la città. Questa situazione, questa operazione dimostra che non c'è stata inefficienza. C'è stata una condivisione di indenti che per un periodo di tempo relativamente breve ha reso necessario un passo indietro da parte dell'amministrazione che non poteva essere reso pubblico. Questa è la cosa importante che voglio far capire a tutti, partiti compresi. Non di tutto si può parlare sempre. L'amministrazione, il sindaco in particolare, ha delle responsabilità e in certe situazioni non può farsi portatore delle istanze che altri chiedono, perché queste andrebbero in contrasto con l'esito finale di operazioni molto più importanti. Questa è la filosofia e, come dire, il monito che io lascio sul tavolo per chi vorrà raccoglierlo. Poi i social sono lì, tutti potranno scrivere, io non rispondo mai. Avrete notato che non rispondo mai alle provocazioni che spesso mi giungono, anche dai miei sostenitori.